Al centro del dibattito negli ultimi tempi c'è stata la vicenda della verifica delle schede elettorali disposta dal Tar dopo il ricorso presentato da Agnazio Messina contro il risultato elettorale del primo turno del 12 giugno, quello che vide Messina sfiorare il 40% che per legge se lo avesse raggiunto gli avrebbe permesso di essere eletto sindaco al primo turno. Gli sono mancati 18 voti, da lì il ricorso al Tar, probabilmente lo avrebbe fatto anche Fabio Termine se le cose fossero andate in maniera opposta, adesso però viene fuori la questione che da questa verifica sono state riammesse a verifica, mi scuso per la cacofonia, almeno 24 schede che potrebbero essere verosimilmente a pannaggio di Messina. Queste probabilmente non basteranno per ribaltare il risultato elettorale, questo è il tema che è al centro del dibattito, però noi ne approfitteremo oggi nella nuova puntata di Vespere per parlare anche delle cose che comunque sono venute fuori all'interno di un consiglio comunale, dove i numeri non sono certamente a favore dell'attuale amministrazione e tuttavia bisogna riconoscere che si sono raggiunti dei punti di intesa che sono stati particolarmente significativi, che hanno fatto in modo che lo stesso sindaco ammettesse che si sono scritte delle belle pagine di politica. Ringrazio gli ospiti che hanno accettato di partecipare a questa trasmissione, ve li presento, inizio con due colleghi, Filippo Cardinale, direttore del Corriere di Sciacca, e saluto e ringrazio Giovanna Venezia, direttrice di Risoluto, per entrambi è un ritorno nei nostri studi e li ringrazio anche per questo motivo. Voglio ringraziare l'Avvocato Ignazio Bivona, che rappresenta qui la lista Messina, ma rappresenta ovviamente un consigliere comunale della coalizione che aveva sostenuto Messina alle elezioni, e di contro il Dottor Fabio Leonte, che invece rappresenta la coalizione che sostiene l'amministrazione comunale. Vorrei cominciare con una riflessione partendo dall'Avvocato Bivona. Avvocato Bivona, cosa ci dice questa verifica? Lei qualche settimana fa, me lo ricordo, disse basta, non parliamo più di questa vicenda, questa vicenda seguirà il suo percorso, cerchiamo, vediamo di parlare di politica. Inevitabilmente in questi giorni siamo costretti, tra virgolette, a tornare a parlarne. Ci dà qualche indicazione questa verifica che si è conclusa in prefettura? Sì, secondo me ci dà delle indicazioni precise. Prima su alcuni dati che sono stati smentiti dal ricorso stesso, cioè non era un ricorso di natura esplorativa, era un ricorso perfettamente fondato e poi i numeri sono un fatto diverso rispetto alla possibilità di essere ammissibile e valutabile il ricorso stesso. Quando parliamo di ricorsi elettorali però dobbiamo sempre ricordare che sarà sempre una verifica parziale, perché se noi oggi applicassimo i sistemi matematici o statistici ai numeri di cui oggi siamo a conoscenza, questi sovvertirebbero certamente il risultato che ha portato Fabio Termine a essere sindaco di Sciacca. Perché dico questo? Perché statisticamente si è avuto un chiaro riscontro che in tutte le sezioni in cui si è fatto l'accertamento è emerso un dato, un trend che oggi non ci dice che 24 voti sono di Messina e due sono di Termine, ci dice che il Tar dovrà valutare 24 voti possibilmente a favore di Messina, due possibilmente a favore di Termine. Ma è sempre un dato parziale, perché o la norma prevede la riapertura di tutte le sezioni per cercare di comprendere qual è il risultato reale, oppure avremo sempre un risultato che sarà un risultato viziato. Abbiamo notizie dell'accertamento, chiamiamolo dell'accertamento tecnico che è stato fatto in questi giorni, cioè in Prefettura, come se fosse una vera e propria consulenza tecnica d'ufficio, nella quale si è riscontrato che ci sono altre schede, non dico che siano di Messina, non dico che siano di Termine, che non sono state contestate al momento dello sfoglio e che invece non sono state assegnate né all'uno né all'altro. Quindi qualsiasi sia il risultato che emergerà sarà sempre un risultato parziale. Oggi il trend statistico, se lo applichiamo a questa fattispecie, ci dice che Messina molto probabilmente aveva superato il 40%. E questo è lo stesso ragionamento che facciamo noi da candidati in Consiglio Comunale. Noi cosa facciamo? Dopo 7-8 sezioni abbiamo conoscenza dei numeri di quelle sezioni applichiamo dei calcoli statistici per cercare di comprendere le proiezioni, per comprendere quale possa essere il risultato personale di ciascuno di noi. E l'errore finale rispetto a questi calcoli è sempre un errore marginale. Quindi quello che dico io è naturalmente una mia valutazione personale, perché poi alla fine esiste un giudizio che ha le sue regole, condivisibili o non condivisibili, dubbi e che alla fine accetteremo tutti. Su questo dubbi non ce ne sono. Ma in un'ipotesi di questo diva affermare che la sentenza darà il risultato finale è un fatto che non è reale, perché la realtà doveva prevedere la verifica, secondo me, di tutte le schede. La norma non prevede questo, prevede un sistema molto più articolato, molto più complesso, che è da risultati che a volte sono diversi dal riscontro oggettivo. Allora, questo è il dato tecnico, poi tornerò su di lei per avere qualche riflessione politica. Vorrei chiedere a Fabio Leonte cosa ci dice questa verifica. Ci dice intanto che non è una bella vicenda. Non è una bella vicenda per la democrazia, non è una bella vicenda per la città. Chissà quante volte è successo che ci sono stati degli errori commessi senza dolo, perché altrimenti ci troveremmo in fattispecie più complesse da parte di presidenti. Ma i risultati magari hanno coperto un'eventuale verifica. In questo caso, magari quando il divario tra i contendenti era più ampio, non è necessario approfondire. In questo caso è stato necessario approfondire. Sembra che i dati siano abbastanza favorevoli ad un superamento del 40%, da quello che io non ho approfondito la vicenda, come magari la profondità, Ignazio Bivona. Ma sembra che i risultati siano per un superamento del 40%, e qui ci sarebbe da fare una prima riflessione. Una legge soltanto in Sicilia è il 40%, in tutto il resto dell'Italia si deve superare il 50%, ma è così. Tanto per dire che aiuta a creare problemi il 40%, perché è una percentuale più facilmente raggiungibile ovviamente del 50%. Io non ho particolari sensazioni, nel senso che la democrazia viene meno perché se il risultato fosse quello che Messina ha superato il 40%, amministrerebbe un sindaco non legittimato dal voto popolare. Nel frattempo il voto popolare, il secondo turno, a cui ha avuto accesso sulla base dei risultati, permette a Fabio Termine di amministrare, e quindi chi ne paga le conseguenze è poi la città che è confusa in tutta questa vicenda, perché gli stessi amministratori vivono un momento di difficoltà perché non sanno come andrà a finire. La città è confusa perché c'è un buon rapporto con l'attuale amministrazione, e magari non vedrebbe bene il rientro da parte di Messina, ma ci sono tutta una serie di vicende che comunque, ripeto, lasciano la mare in bocca rispetto ad una situazione che invece dovrebbe essere molto più lineare. Lì le cause sono tante, per esempio non c'è una casistica specifica e precisa a cui devono attenersi i presidenti. I presidenti si lasciano andare, chi è troppo eligio e appena c'è una virgola non dà il voto, e ci sono quelli abbastanza aperti che intendono la volontà dell'elettore, è sufficiente che scrive uno il nome in qualsiasi posto e già la volontà dell'elettore è quella. E poi in questa vicenda vogliamo parlarne dei rappresentanti di lista, per esempio nella sezione dove sono stati trovati i voti, se questi erano voti validissimi, questi che fa? Dormivano, perché io posso capire il voto contestabile, ma nel voto che si dice che il voto era assolutamente evidente l'espressione del voto. I rappresentanti di lista che ci stanno a fare. Questo è un tema interessante su cui torneremo tra poco, voglio conoscere l'opinione di Filippo, cosa ci dice questa verifica? Perché Leonte mette sul tappeto... Consentimi di stupirmi fino a un certo punto, perché da un po' di tempo che noto una propensione al doroteismo da parte di Fabio Leonte, perché il suo intervento è stato moderato, democristiano, ma nello stesso tempo di sostanza, perché Fabio ha centrato un argomento che è una norma complessa e poi più vai a sud e più trovi paradossi, perché mentre la metà dal centro-nord è 50, da noi è 40, quindi questo... Sappiamo che questa è la norma anti-movimento 5 stelle, diciamoci la verità, per questo fu trovata la legge. Sì, ma ne ha creato tante e stiamo vedendo tutta una serie poi di riverbere che mettono in difficoltà il sistema. Altro fatto evidenziato, vero è che Fabio Leonte parlava dei rappresentanti, siccome dobbiamo approfondire il discorso, passo al primo, e cioè i presidenti. Qui non è solo una questione statistica che riguarda qualche scheda contestata, siamo di fronte invece a una statistica abbastanza estesa a questo punto, in cui si evince tutta la insufficienza di una buona formazione da parte dei presidenti dei seggi, perché devono avere la determinazione, la consapevolezza, senza né pressione, né tentennamenti, è ancora peggio, senza tentennamenti. Eppure è vero che in questa tornata devo constatare una maggiore organizzazione e professionalità per quanto riguarda i rappresentanti di liste, per quanto riguarda la coalizione di termine. Molto da lavorare c'è invece dall'altro parte, perché mi è sembrato, e lì do ragione a Fabio, che i rappresentanti della coalizione Messina molto probabilmente avevano fatto la movita nel giorno precedente e dovevano recuperare la stanchezza. Ma ce n'è uno che ha fatto, nella sezione 28, c'è un presidente che non ha assegnato dei voti, questo Messina ha avuto ragione sin dal primo giorno, noi si fa non assegnare dei voti, momentaneamente non assegnati che significa? Consente di dire pure che intanto per esempio i tempi della giustizia rispetto a questa casistica che non è solo sciacca, ma quando c'è una contestazione che riguarda una competizione amministrativa, non possono essere i tempi quelli della giustizia. Nell'arco di due mesi massimo si deve risolvere tutto, in maniera tale da dare fiducia all'elettore, chiarezza e trasparenza. Poi c'è un altro elemento che non può essere trascurato e mi fa piacere sottolinearlo, e questa è l'occasione sicuramente nei prossimi passaggi che avremo di evidenziarlo con il giallo, è che la verificazione, termine bruttissimo giuridico, comunque è così, la verifica, noi siamo un poco più romantici la chiamiamo, dimostra che sostanzialmente il ricorso è fondato, ma bisogna pure gettare una lancia contro quel giustizialismo immediato che ha fatto sì che senza avere prove, senza capire quello che era effettivamente successo, si è messo alla cogna una persona e non è giusto, si è creata confusione, si è creata ansia. Amindore Ambrosetti. Amindore Ambrosetti, tra l'altro proprio creando un'attenzione che era percepibile in lei. Sezione che non è oggetto di verifica, bisogna restituire un po' di dignità alle persone. Mi auguro che proprio questa verificazione o verifica serva anche a raffreddare gli animi e a togliere quella sensazione di brogli, di truffe. No, c'è stata semplicemente una grandissima superficialità da parte dei presidenti, da parte del rappresentante dell'Ista, però non siamo di fronte a casi né di brogli né di truffe. Su questo credo che siamo d'accordo. Ma mi piace sottolinearlo. È fatto bene. Giovanna. Secondo me, diciamo che ci siamo trovati di fronte alla tempesta perfetta. Non mi sento né di accusare nessuno, nel senso i presidenti, ce ne sono alcuni che hanno agito bene. Generalizzare mi sembra sempre una pratica non di buon uso. Soprattutto, secondo me, è stato un po' il clima. Io mi ricordo ancora quel primo turno e la notte elettorale col Comune sotto assedio, se così lo possiamo definire, con tantissima gente ancora davanti, un risultato che non arrivava. Secondo me si è un po' esasperato il clima anche di questa competizione, con dei rappresentanti di lista, secondo me, un po' troppo agitati. Quindi non mi sento di dire che non ci sono stati dei rappresentanti di lista che forse dormivano. Mi sento di dire che forse ci sono stati dei rappresentanti di lista che erano un po' troppo accesi, tanto da mandare in tilt dei presidenti di seggio. Ecco, io il discorso lo faccio diversamente. E quindi si è creato questo clima tale che ha portato a questa situazione che è andata alla lunga per tutta la nottata, che poi ha creato ancora più confusione col dato regionale, perché ricordiamoci che la mattina, all'indomani, Ignazio Messina era sindaco di Sciacca, è stato battuto da tutte le testate anche regionali e nazionali. Il sussitto della regione. E quindi questo ha creato questo clima di grande incertezza e poi mi ricordo ancora tutta la fase che è venuta fuori dopo. Siamo stati due giorni in comune, insomma, aggrappati a questa prima verifica che è stata fatta dall'ufficio elettorale centrale e adesso questo ricorso che secondo me ci sta tutto, come è giusto che sia in una democrazia, certamente non fa bene alla città, non fa bene a chi si trova oggi ad amministrare, secondo me, perché comunque nonostante ci siano state delle dichiarazioni di assoluta tranquillità, secondo me non è così, perché al di là dei tempi della giustizia, che è giusto che comunque il discorso che fa Filippo deve essere tutto più celere, ma quelli sono ahimè e forse non arriveremo, arriveremo forse a un risultato a metà mandato, perché ci sarà forse un ricorso ancora ad Altar, passeremo al CGA e Messina dice adesso addirittura di fare un ricorso in procura, quindi insomma la situazione si complica, arriveremo forse a metà mandato di Fabio Termine, quindi questo secondo me inciderà parecchio, nonostante tutti dicono, vabbè, pensiamo alla politica, secondo me chi sta ad amministrare ci pensa e come. Quindi i dubbi rimangono, diciamo così, nell'attesa di capire che cosa potrà succedere. Grazie per il vostro contributo. Vorrei dire, ripartendo da Ignazio Bevona, intanto credo che alle prossime elezioni nessun candidato a sindaco farà più la lista scrivendo lista Messina, lista Bivona, lista Leonte, perché questo è stato uno dei problemi che si sono verificati. Molti elettori, immagino quelli magari un po' più anziani o quelli magari meno istruiti, leggevano lista Messina e pensavano di votare per Messina, poi però dovevano votare per il consigliere comunale e quindi andavano a cercare, ma questo vale anche per la lista Fabio Termine sindaco, credo di aver capito. Questo per esempio è stato uno dei problemi. Secondo me, partendo da quello che noi ci stiamo dicendo oggi. Le liste con il nome del candidato meglio che non se ne facciano più. No, partiamo da un presupposto che non c'è malafede da parte dei comportamenti di nessuno. Secondo me un dato che ha penalizzato molto la collezione Messina era la presenza di troppe liste in quel cartello, quindi anche questo ha creato difficoltà. Non solo troppe liste in quel cartello, ma poi il voto uomo-donna crea ulteriori problemi, perché l'elettore medio molte volte disgiunge il voto tra le diverse liste. L'uomo lo prende nella lista Messina, la donna lo prende nella lista un'altra lista. Quindi c'è tutta una casistica che crea problemi. Molte delle schede che sono in contestazione vedono proprio questa situazione, cioè soggetti votati nella stessa coalizione su liste diverse e poi segnato pure la posizione del sindaco. Quindi si crea una confusione tale che è difficile poi da parte dell'elettore esprimere correttamente il voto. Io dico sempre ai miei elettori, dovete fare una cosa, se noi stampiamo i facsimili dovete avere il buon senso, non dico di copiarli, però almeno di guardarli, perché là vi è una indicazione ben precisa rispetto al voto che potrebbe essere espresso. Però quello che ci stiamo dicendo oggi è che c'è un sistema molto complesso nel voto che dovrebbe essere secondo me semplificato. Snellito, sicuramente. Dovrebbe essere semplificato. Poi questo sbarramento del 40% al primo turno è un'assurdità in termini assoluti. Arrivato a questo punto fai com'è, si fa alla regione, cioè chi prende più voto al primo turno diventa presidente o diventa sindaco, ma non puoi creare... Se deve essere eletto uno di minoranza, tanto vale che chi arriva primo vinci. Che utilizzi questo sistema. È inutile che poni una maggioranza al 40%, perché questo, come diceva correttamente Fabio Leonte poco fa, è più facile da raggiungere rispetto a un 10% in più che tu devi avere per vincere elezioni a primo turno. E quindi secondo me la situazione dovrebbe essere un po' semplificata. Però mi incuriosisce, le lo chiedo in 30 secondi per questo giro di interventi. Lei dice c'erano troppe liste, fa un'analisi di tipo tecnico evidente, ma anche politicamente però glielo voglio chiedere, perché Messina quando ha cominciato in piazza a gennaio, eravamo insieme con i colleghi ad ascoltare le sue dichiarazioni, fece una uscita da solo, poi a poco a poco cominciarono tutti ad avvicinarsi a lui ed ad un certo punto io gli feci anche una battuta, anche lei naturalmente, al certo punto gli feci una battuta e gli dissi, non mi intendo di botanica, ma so che le piante se a un certo punto gli dai troppa acqua rischiano di morire insomma, di non andare bene. Glielo voglio chiedere su questo, lei si sarebbe fermato un po' prima se fosse stata a posto di Messina? Ma è troppo semplice, con senno di poi è troppo semplice, perché se noi guardiamo il dato elettorale, il dato elettorale ha visto anche un dato di trascinamento delle liste nei confronti del candidato Messina. È vero anche che tra le ultime adesioni c'era chi subodorava un po' questo sentire comune a livello popolare che Messina ce l'avrebbe fatta tranquillamente e quindi dice vinciamo. Sì, ma non penso che tutti abbiano fatto una scelta di questo tipo, perché se io dicessi sia quello che lei sta dicendo, io sono uno di quelli che è salito sul carro del vincitore e siccome l'approccio mio... Ma lei onestamente ne era candidato con la lista Messina. No, siccome l'approccio mio è stato un approccio che ha avuto un percorso molto lungo prima di fare questa scelta, non posso fare questo tipo di affermazione. Naturalmente una coalizione di questo tipo determinerà o avrebbe determinato, non lo so qual è il corretto il verbo da utilizzare, una difficoltà anche a creare una coalizione amministrativa importante e coesa. Io ho sempre pensato, Messina non aveva bisogno di questa coalizione così larga, ma comunque questo è un problema che... Queste sono valutazioni... la campagna elettorale fu approcciata in questi termini. Sto dicendo, forse, ripeto, è anche suggestivo guardare col senno di poi, forse questa cosa invece di aiutarlo lo ha rallentato. La campagna elettorale è stata, anche da parte di Fabio Termine, anche approcciata in questo contesto, nel senso che ha più volte contestato, tra virgolette, la cozzaglia L'eterogeneità, diciamo Di quel tipo di approccio. Queste erano le espressioni che venivano utilizzate in campagna elettorale. Però oggi dire che questo possa aver penalizzato o meno un candidato a sindaco, questo è difficile da dire. Leonte, cosa ne pensi? Io penso che uno fa in campagna elettorale, si fa cose che poi magari di cui ci si pente. Uno prova a vincere e se ci sono sette, otto, nove liste che stanno con te, perché no? Non vedo, se poi questo ha comportato dei problemi nella scheda elettorale, per cui ci sono stati tanti errori, non era prevedibile, perché il facsimile si dà a tutti, ci sono quelli che lo rifiutano, no, non ho bisogno, e poi sbagliano, e poi sbagliano anche di elevata cultura. Io penso che in campagna elettorale si fa di tutto e di più, anche le affermazioni che riguardano quello che è successo in quella sezione sono cose di campagna elettorale, cioè un candidato approfitta di quello che succede e va avanti così, poi la gente, non credo però che si faccia convincere da queste cose. Poi alla fine… Però Messina dice che il ballottaggio perde perché è successo questo invece. Ma io non credo. Lei pensa che non è così? Io credo che al ballottaggio Messina avrebbe perso in ogni caso. Messina doveva vincere al primo turno. Credo che il suo obiettivo era quello, per questo aveva più liste d'appoggio. Secondo me era consapevole che il secondo turno sarebbe stato difficile da superare, come è successo peraltro cinque anni fa, dove il candidato che è arrivato… mi pare che sia una costante, il candidato che a primo turno è primo poi al ballottaggio perde, ma comunque la novità di Termini era scontato. Così come Termini avrebbe vinto cinque anni fa se fosse andato al ballottaggio contro chiunque. Io credo che fosse un po' più consapevole del rischio della sconfitta al secondo turno. Vogliamo essere un po' indulgenti, e poi passo ai colleghi, un po' indulgenti nei confronti degli elettori. Questa legge elettorale è assurda. Tutta assurda. Premesso che io per esempio, come questione di principio, non condivido il voto disgiunto. Una cosa che riguarda me è la mia filosofia di vita. Per me il voto disgiunto è o tu fai una scelta o non la fai. Ma questo è già uno dei tanti problemi che ci sono. Chi vince dovrebbe avere sicuramente la maggioranza. Questo è un aspetto folle. La difficoltà a stabilire qual è la volontà dell'elettore. Ma se uno vota due schede dello stesso candidato sindaco, io capisco che non puoi dare il voto del consigliere comunale, ma quello del sindaco lo devi dare. Come fai a non darlo, quello del sindaco? Eppure c'è tutta questa situazione. Questa fattispecie è presente nell'errore. Ha reso complicatissimo. Ma è presente nell'errore perché ci sono presidenti che sono d'accordo con lui. Che consultano il manuale che gli danno. Possibilmente c'è quell'esempio e non vanno avanti. Ci sono altri invece che... Va bene, la volontà dell'elettore è questa e va avanti. Non vorrei essere equivocati. I presidenti di Seggio noi li dobbiamo ringraziare. Perché la corte... Si fa la domanda ancora alla corte d'appello. I presidenti di Seggio dovrebbero essere intanto ben pagati. Appunto. E poi secondo me ci dovrebbe essere un albo dei presidenti di Seggio presso la corte d'appello e dovrebbero fare un minimo di formazione. Un minimo di formazione. E lo dovrebbero fare perfino i rappresentanti di lista. Ma i rappresentanti di lista è soggettivo. Perché prima di contestare qualcosa devi almeno sapere se puoi contestarlo. Ma questo dipende dall'organizzazione del sindaco. Massimo, prima che tu mi faccia una domanda... Questi sono gli spunti che ho messo. No, no, non te ne faccio. Prima che tu mi facci la tua domanda, io faccio una risposta a piacere. Però non voglio essere manco... Senza la domanda. Sì, manco sacciato di una conversione all'eutismo. Oh, fattordio. Perché insomma... Fabio... Ci vuoi pace se sei andato a Filippo. No, no, dopo sei mesi di... Si scherza. Sono apprezzamenti pubblici. No, quindi... Però c'è anche un particolare che abbiamo dimenticato. Ci ancoriamo a che cosa? A 40, 30, 20, 28 voti e dubbi non assegnati, contestati. Ma c'è un altro elemento importante. Sul fatto del ballottaggio non ho... Sposo esattamente quello che ha detto Fabio, perché l'abbiamo avuto come esempi pratici. Nel centro-destra se non vince al primo turno viene sconfitto. Però rimane il dato importante, e cioè che alla fine, al di là delle schede, dei partiti che compongono la collezione, che comunque numericamente servono per poter superare il 40%, toccare il 40%. Però Messina, più che cercare quei voti nei ricorsi, dovrebbe cercarlo in quella differenza fra il risultato, la percentuale ottenuta dalle liste, e quella sua. Perché le liste, non dimentichiamolo, hanno ottenuto il 46%, e Messina a 40% non ci è arrivato, per 0,4, 0,5. Quindi dico qui mancano 400-500 voti, e sono il risultato. Tu dici, se ci fosse stata la corrispondenza tra i voti alla coalizione e i voti a lui, non parleremo di questo. Non avremmo manco fatto questa, non solo il ricorso al taglio. Probabilmente a differenza di Ignazio Bivone, che ha fatto una certa scelta, ci sono dei partiti di quella coalizione che sono andati lì perché pensavano di poter vincere, ma non sostenevano il candidato. Questo è il quadro obiettivo e oggettivo, che è il più importante, perché stiamo litigando, stiamo conversando, discutendo, litigando dal punto di vista giudiziario, va bene, sulla manciata dei voti per davvero, quando il vero danno è sulla differenza tra la sommatoria delle liste della coalizione e il voto del candidato Messina. Quindi lì bisogna ricercare la causa. Ormai le elezioni sono finite. Prego con la domanda. No, e volevo capire anche, noi vi ricordate, tu e Giovanna, insomma, ogni due giorni Messina ci chiamava perché avevamo una conferenza stampa per la presentazione di un'altra alleanza. Messina, la campagna elettorale di Messina ha due fasi. Facciamolo un analisi su questo. La campagna elettorale di Messina ha due fasi. Una prima fase che è stata azzeccata, una seconda fase che invece ha rovelato tutto lo sforzo della prima fase. Non so per quale motivo, se è un errore di comunicazione. Contesto, ma gliel'ho detto per esempio, quella litania senza fine delle cose fatte negli anni 90. Negli anni 93, 94. Anche gli spot con le immagini di repertorio, piazza San Michele, lui con la fascia tricolore, con le immagini sgranate. Tante elettorale non manco nate. E poi andava forte. Ignazio si è presentato proponendo all'elettorato un'aggiunta di alto valore, di alta professionalità. Nella seconda fase, l'elettore non l'ha avvertito. Il manuale Cengelli, diciamo. Sì, vuoi o non vuoi, poi quando c'è una coalizione succede questo. È normale. Però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ed è successo quello che è successo. Dico, qua c'è qualche esponente pure, però ha un'esperienza alle spalle di vita amministrativa, burocratica, che potrebbe rappresentare un valore aggiunto. Ma non era formata tutta così l'aggiunta Messina. Giovanna, che ne vengono? Quindi credo che un altro errore sia da individuare. Effettivamente Messina nella prima parte aveva il vento in poppa, poi ad un certo punto ha perso un po' di voto di opinione, secondo me, di quello che è successo. Poi c'è anche un'altra dinamica. Spesso si vota per il consigliere comunale, a prescindere da dove è collocato nella lista. Perché si conosce, perché è un amico, perché è un parente. Mentre il sindaco si sceglie. Secondo me Messina o si ama o si odia, in questa città, lo voglio ricordare, Messina è stato un sindaco sfiduciato. Quindi evidentemente c'era tanta gente che magari era per Messina, che voleva un suo ritorno e tant'altra che non lo voleva. E quindi in questo caso è stato molto divisivo come figura di questa coalizione. Cosa pensi? Però l'impostazione che dice Filippo merita, secondo me, di essere approfondita. Messina fa una campagna facendo vedere le cose che lui aveva fatto, ma che erano tra l'altro cose discusse. Nel senso che erano state oggetto anche di scontro. Perché lui è tornato a sfidare la città su temi che erano già stati oggetto di scontro all'epoca. Tipo la piazza di San Michele, no? Che è il suo feticcio. E tuttavia non possiamo dimenticare che quello fu un argomento che vide uno scontro formidabile sul piano politico a livello cittadino. Ecco, forse questo è stato un po' sembrato un po' come Turco. Turco dice sempre quando io ero sindaco, lo dico affettosamente. Però è sembrato da Messina uno non se l'aspettava questo. Assolutamente, forse è stato un errore di comunicazione. Un'altra cosa che è accaduta negli ultimi giorni della campagna elettorale, lo voglio ricordare, alcune persone, i cosiddetti cavalli di Troia, che si sono infilati nelle liste. Secondo me quello ha veramente sortito questo effetto, ha stoppato un po' questo vento in poppa di Messina al primo turno. Poi nel ballottaggio, evidentemente la proposta di termine è più fresca, l'outsider che comunque al secondo turno ha avuto la volata al contrario. E quindi poi effettivamente è stato così. L'accordo con Fratelli d'Italia forse poteva anche... È risultato un po' troppo rispetto a quello che già c'era stato, ma anche i Cusumaniani nascosti nelle liste. Insomma, quello che è accaduto negli ultimi giorni ha un po' turbato l'elettorato. C'è un altro aspetto che mi è sfuggito e mi piace riprenderlo un po', che mi ha indotto pure a un errore di valutazione. Il numero dei votanti rispetto agli elettori, agli aventi diritto, il 25% anagraficamente era giovane. Quindi si è considerato il voto giovanile come una fascia non determinante per le elezioni. Quindi dal punto di vista statistico, anagrafico, era un elettorato che si ricordava le cose di 30 anni fa di Messina. Era più propenso rispetto a Messina che a Termine. Però abbiamo dimenticato che nel frattempo sono passati alcuni decenni. E si è modificato il rapporto all'interno della famiglia. Ti ricordi benissimo, durante la prima repubblica era il padre che consigliava, imponeva e trascinava la famiglia a votare in una certa maniera. Qui quel 25% è stato determinante perché i ragazzi si sono portati i nonni, i genitori. Sono stati determinanti, quindi si è invertito. Giovanna, questo mi interessa, ecco perché Salvatore Monte si sarebbe voluto candidare. Perché voleva giocare su questo 25%, sarebbe stato forse più competitivo. Sì, però l'elettorato di Termine alla fine è stato un elettorato anche non fatto solo da giovani. La proposta è piaciuta anche a gente di mezza età, quindi non è l'elettore medio di Termine, non è solo il giovane. Anche perché se andiamo a guardare poi le percentuali, i giovani che risiedono e che vivono a Sciacca, purtroppo sono pochi rispetto in giovane età. Un altro tema, la retrospettiva la chiudiamo qui. Anche perché io parlerei tanto rispetto a questi approcci che io non condivido. Io le do la possibilità di esprimere le sue opinioni. Non mi fa piacere se dice qualcosa su questo. Introduco un altro tema, a me è rimasto molto impresso in modo favorevole. Quello che lei ha fatto notare qualche settimana fa, quando ha detto sì, noi abbiamo i numeri in Consiglio Comunale, ma badate che questa cosa è un problema per noi, non per l'amministrazione. Perché noi a quel punto siamo chiamati comunque a dimostrare di avere a cuore le sorti della città, che si arriva a una proposta che è per il bene della città, non possiamo tirarci indietro. Questo aspetto, questa sua analisi mi ha convinto molto rispetto proprio anche quasi al paradosso che lei ha voluto far notare. E volevo che lei tornasse a parlare di questo. Ovviamente però prima le chiedo un commento su quello che si sta a dire. Io devo dire che questo approccio da campagna elettorale fatto in questi termini non lo condivido, perché la verità storica di questa campagna elettorale non siamo nelle condizioni di poterla dare così in maniera semplice. Primo, Ignazio Messina quando viene sfiduciato, viene sfiduciato con una legge elettorale che non prevede più il referendum, ma prevede che sia il Consiglio Comunale a sfiduciarlo. Perché noi dobbiamo ricordare la città che Ignazio Messina è l'unico sindaco nel 1993 che è stato rieletto ed è stato eletto una seconda volta. Non esistono altri precedenti nella nostra città. Molti non si sono messi alla prova, hanno fatto un passo indietro per scelte personali, per scelte politiche o per altro. L'unico che si è ricandidato è stato Mario Torturici. L'unico che si è candidato è stato Mario Torturici e non ce l'ha fatta. Ricordo la vittoria sonante del Dottore Bono vincendo a primo turno superando il 50% dei consensi. E di Fabrizio Di Paola pure. E di Fabrizio, Fabrizio supera il 50% ma non si candida la seconda volta. Quindi rispetto a questo fatto noi dobbiamo dire che la città non ha mai, mai dato un segnale contro Ignazio Messina. Ignazio Messina è stato sempre un sindaco amatissimo dai nostri concittadini. Dimentichiamo in questa campagna elettorale che la compagine che ha sostenuto il candidato termine era al 70% la compagine che aveva amministrato fino a una settimana prima. Ed era considerata, non me ne voglia a Fabio che è amico mio a cui riconosco grandi capacità, era ai minimi storici e lì c'è stata grande capacità e intuizione dell'onorevole Michele Catanzaro a mascherarsi dietro il candidato termine. Perché io ricordo che in questa campagna elettorale termine l'ha fatta quasi quasi nascondendo il simbolo del Partito Democratico. Il Partito Democratico è il secondo partito, dopo di voi. Per dire che verso questo consenso ai minimi termini... No, no, facendo riferimento all'intuizione di Michele Catanzaro, oggi anche deputato regionale grazie a questa sua grande intuizione. Perché questo tipo di accordo elettorale gli ha consentito alle regionali di avere un numero di voti che sono quelli che venivano raccontati poco fa, i figli, i padri, i nonni che sono stati condotti a votare e che gli hanno dato una grande mano d'aiuto. Perché se non ci fosse stata questa mano d'aiuto, noi sappiamo che il Partito Democratico e le regionali non avrebbero preso nemmeno il seggio. Mi risponde dopo su quello che le avevo chiesto. Vorrei conoscere cosa ne pensano Leonti di questa analisi. Ricordo comunque che Messina nel 2004 si è candidato Messina a Sciarra. Io vorrei ritornare. Vero è che Ignazio Messina è l'unico sindaco che si è ricandidato e ha vinto. Vero è che è stato sfiduciato non dal popolo ma dal Consiglio Comunale. Però è pure vero che negli anni successivi l'amore che la città aveva nei confronti di Messina è venuto meno anche per alcune scelte. Ricordo quella di essersi accordato con Pippo Turco, per esempio, che non sono state condivise. Ricordo anche il passaggio con Mario Turturici. Cioè ci sono state delle scelte che hanno ridotto l'amore che i cittadini nutrivano in lui. Nel frattempo ha fatto il deputato nazionale Messina. Ci sono passati 30 anni e quindi ci sono state delle novità. Io penso che ormai parlare di queste cose sta diventando un po' inutile. Nel senso che l'elettore ha deciso. L'elettore ha deciso in una certa maniera. Noi non eravamo il 70% della Presidente. Noi eravamo appena una lista. Il Partito Democratico si è presentato con una lista fatta di giovani dove non c'erano assolutamente gli amministratori nel senso di consiglieri comunali precedenti. Noi abbiamo fatto una lista composta da alcuni ex amministratori che ha avuto un discreto successo, secondo me, perché rispetto ai rumors abbiamo ottenuto una buona percentuale di voti. Il dato è che questa città, ad eccezione 1993-1997, ama cambiare. La verità è questa. E ama cambiare. Nella coalizione di Messina c'erano tante facce già viste. Questo, secondo me, lo ha penalizzato. Mentre da parte di Fabio Termini non c'erano queste facce già viste. Fermo restando che lui era stato consigliere comunale. Però la città ha voluto cambiare. Abbiamo provato, si diceva, abbiamo provato con questi. Basta, non ci hanno soddisfatto. Proviamo con questi giovani. Questo era lo slogan che circolava, soprattutto nella seconda parte della campagna elettorale. Poi, siamo là. Se possibilmente gli avessi attribuito i voti correttamente... Parleremo d'altro. Parleremo d'altro. Parleremo d'altro. Vediamo che in consiglio comunale, tranne qualche picco, ma insomma se non ci fosse nemmeno un poco di, come si dice, di esprezza del dibattito, che piacere ci sarebbe. Però notiamo che in consiglio comunale, tutto sommato, il dibattito è molto sereno. Qual è la sua riflessione? Lei è soddisfatto di questo fatto, avendo proprio detto che per voi è un problema avere i numeri? Vuole una risposta sincera? Dico no perché la situazione in consiglio comunale è paradossale. E' paradossale perché anche nel dibattito è paradossale, perché noi abbiamo di fronte in questo momento otto consiglieri comunali che attendono quello che facciamo noi. Tranne gli interventi del consigliere Leonte, non si apre un dibattito con la maggioranza che sostiene l'amministrazione di termine. Noi ci alziamo, facciamo il nostro intervento. Io l'ho detto in televisione, l'ho detto anche in consiglio comunale, molte volte sembriamo che abbiamo problematiche di natura mentale perché diciamo determinate cose e poi votiamo in maniera completamente diversa. e questa non è una situazione che va bene. Devo dire che il sindaco da questo punto di vista io gli attribuisco delle responsabilità, nel senso che sin ad oggi ha condiviso pochissimo con la maggioranza numerica le attività e le delibere che sono pervenute. Arriva in aula. Che sono pervenute. Dovete parlarne direttamente in aula. In aula, esattamente. Se ne parla direttamente là, io ritengo che lui si faccia forte di questo fatto. Cioè lui dice, cosa vogliono fare? Mi vogliono bocciare questi punti? Se ne assumono la responsabilità politica? Oltretutto le delibere che sono arrivate nell'ultimo periodo sono state delle variazioni di bilancio per evitare di perdere finanziamenti, per coprire degli interventi economici importanti. Quindi non c'è un'attività politica vera che si è fatto su questi atti deliberativi. Però è un'attività che è un'attività paradossale. Tra poco arrivo da voi, colleghi. Perché è difficile gestire l'aula. Posso dirlo? A volte il presidente chiama e invita i consiglieri a fare l'intervento, ci guardiamo in faccia e nessuno pigge il bottone. Posso chiedere a Leonte? La conosco da anni e ho visto anche diversi interventi suoi in consiglio. L'altra volta sui loculi del cimitero le ha detto, cari consiglieri di opposizione, vi prego di sostenere questo punto, anche se l'abbiamo portato all'ultimo momento. Non sono abituato a vedere Leonte così ecumenico, però è un po' il simbolo di questa consigliatura, di questo inizio di consigliatura. Io invece sono contento di come vanno le cose, ma non perché noi siamo otto e la maggioranza... No, non per questo, perché io penso diversamente da quanto pensavo in passato, perché con il tempo si cambia. Quindi mi dai ragione, insomma. A che serve andare in consiglio comunale e litigare? Qualcuno sarà contento, qualche spettatore quando c'è la televisione sarà contento, dirà questo gliel'hanno detto di tutti i colori, eccetera, ma il risultato è che molto spesso facciamo del male alla città, con questa contrapposizione non fa bene, perché magari degli atti che dovrebbero essere votati favorevolmente non lo sono per questa contrapposizione politica. Oggi sta succedendo una cosa particolare. Noi, io non ho mai fatto un appello al senso di responsabilità in questi mesi della... Anzi, non ho mai fatto un appello perché loro hanno avuto, hanno finora avuto un atteggiamento assolutamente responsabile per la loro scelta. Vero è che abbiamo portato in consiglio degli atti difficilmente bocciabili che riguardano le scuole, che riguardano dei finanziamenti, eccetera. Hanno fatto le loro legittime proteste, ma rispetto al metodo, non rispetto al merito degli atti, tranne per quanto riguarda il contributo della vicenda aica. E su questa cosa del metodo lei pensa che si possa migliorare qualcosa? Allora, il metodo... Noi abbiamo questo... Leggo da quello che dice Ignazio, che è come se fosse una strategia, quella nostra, di portare gli atti all'ultimo momento e magari senza condividerli. In realtà, l'ho detto più volte in consiglio comunale, qua c'è un problema di carenza di personale. Gli atti portati in consiglio sono prevalentemente del settore lavori pubblici, dove c'è un dirigente, un ingegnere e un geometra. Ora, questo cosa deve fare prima? Riesce a portare, anzi, riesce a portare in consiglio degli atti all'ultimo minuto? Hanno ragione. A posto loro direi la stessa cosa. Non sono d'accordo. Non è a plurale. Voglio correggere un attimo Leonte, perché è come se lui fosse l'organo esecutivo. È a tutela del consigliere comunale in genere, perché deve avere l'opportunità di leggersi le carte. Perché si assumono delle responsabilità. Sì, sì, sì. Però, voglio dire, per esempio, l'altra sera, l'altra sera per l'ultima variazione di bilancio, due consiglieri non l'hanno votato perché non avevano letto, non avevano letto gli atti relativi a... Sì, sì, sull'emendamento che riguardava i loculi cimiteriali. Cioè, quell'emendamento era una paginetta e c'era scritto variazione in entrate e variazione in uscita. Non c'era altra documentazione. Se uno vuole... Ma io l'ho fatto a ragione. Io, ripeto, al loro posto in altri tempi avrei fatto... Riparto da Giovanna. Non sono d'accordo con la... Aspetta, Giovanna, fammi fare una sollecitazione e ti prego poi di rispondere dopo che dici quello che vuoi dire. Però, su questo clima che si è creato in Consiglio, a Bivona non piace, diciamo, a denti stretti, lo affronta. Leonte invece dice che dovremmo essere consigliato. Perché? Perché portiamo risultati per la città? Sono d'accordo con Bivona. Neanche a me piace. E per un semplice motivo. Il Consiglio Comunale ha una funzione, che è anche quella di controllo. E là dentro il clima è paradossale, perché non si capisce dove è la maggioranza, dove è l'opposizione. E se non c'è maggioranza e non c'è opposizione, non c'è democrazia. Perché la democrazia non è semplicemente il governo della maggioranza, ma è la tutela della minoranza. Quindi, secondo me, è un pasticciaccio di quello che è venuto fuori da questa elezione. Questi atti passano dalle commissioni, non è che arrivano all'ultimo minuto. C'è questo clima, il sindaco ha detto, l'ultimo Consiglio Comunale, abbiamo scritto una bella pagina politica. Non sono d'accordo. Nel senso che comunque il clima, non sono d'accordo con lo scontro politico, quando è esasperato, con la polemica. Ma se ci sono dei ruoli che vengono assegnati, questi si devono esercitare. democrazia, altrimenti così non è. Perché vedo veramente il disagio di chi si è… E quindi non dovrebbe passare nulla? No, non dico che non dovrebbe passare nulla, ma bisognerebbe approfondire i punti. Ma è capitato sicuramente di fermarti con qualche cittadino che ti dice, ma perché litigano sempre? Perché non si mettono d'accordo e fanno le cose che devono fare? Ti è capitato sicuramente? Sì, sicuramente è capitato, però non si può pensare che non ci deve essere questo gioco delle parti. E che comunque vivono un disagio, nel senso che sono là chiamati a votare per forza. Il clima è veramente surreale, secondo me non è una bella pagina. E voglio fare anche un appunto, perché abbiamo parlato di presidenti di seggio, di rappresentanti di lista non all'altezza. Ma diciamolo pure, qualche consigliere comunale secondo me si deve anche svegliare. Perché qui abbiamo Ignazio Bivona, Fabio Leonte, che in passato, nonostante adesso magari sono un po' diventati, ve lo posso dire, un po' più democristiani, ci hanno abituato nel tempo ad essere invece ai capi di opposizione molto di forte e di sostegno. Quindi secondo me questi giovani che sono venuti in consiglio comunale, che io sono giovane, mi sento ancora giovane, e dicono, beh, vengano i giovani, che però iniziano a studiare anche da consigliere comunale. Altrimenti stare lì passivamente, ascoltare Bivona e Leonte che fanno questo gioco surreale, sinceramente ci siamo stancati e non fa bene alla città. Parlavamo prima della legge elettorale, questa situazione è figlia della legge elettorale. Massimo, vado di seguito alle cose che ha detto Giovanni. E perché qui abbiamo due pilastri, due pilastri del sistema Aula Consiliare. E mi ricordano che cosa? Il racconto o la descrizione della democrazia in America da parte di Montesquieu, cioè un sistema fatto da pesi e contrapesi. E allora, in questo primo periodo di consigliatura, che cosa abbiamo visto? Proprio questo sistema, peso e contrapeso, perché gli interventi significativi sono provenuti da Ignazio Bivona e da Fabio Leonte. E se tu te le vai a guardare, c'è proprio un equilibrio, perché c'è stata qualche uscita da parte di qualche consigliere, che si immagina studioso, di qualcuno che si immagina filosofo, però loro sono intervenuti a bilanciare, tant'è che non si sono scontrati. Ma l'intervento di Bivona poi è stato caldeggiato da Leonte e viceversa. Ecco perché poi viene fuori, abbiamo scritto una bella pagina, una bella pagina. Ma personano probabilmente, loro due impersonano lo spirito di rilattamento della realtà. Ma la loro esperienza, ma la delicatezza, perché da una parte c'è la determinazione di essere minoranza. Dall'altra c'è anche uno studio, nel senso tattico, capire cosa dobbiamo fare in questo momento, rispetto poi a degli atti che dovevano essere comunque approvati. Il punto di domanda è, fino a quando tiene questo sistema di pesi? Se mi consenti... E' contrapeso? Vediamo cosa dice Bivona e torno a dire. Io spero che quello che diceva Giovanna poco fa sia un auspicio. Cioè nel senso che io cittadino che guardo la televisione e guardo il Consiglio Comunale e vedo che Bivona si alza sui temi di bilancio, sui temi di urbanistica, sui temi di patrimonio. Cioè è come se io fossi tuttologo. Parlo per me, lo potrei dire pure per Fabio. Non è bellissimo, devo dire. Io auspico che i ragazzi che sono entrati in Consiglio Comunale e che hanno necessariamente... debbono avere qualche mese di tempo per comprendere i meccanismi, per comprendere gli atti deliberativi, diano un contributo più importante all'interno dell'Aula. Perché anche la campagna elettorale è stata improntata sulla novità, sui giovani, sul dinamismo. E secondo me questo dobbiamo coglierlo anche in Consiglio Comunale. E non mi riferisco solo alla compaggine di termine. Anche io, assolutamente. Noi stiamo parlando in questo momento dei consiglieri comunali in generale. Perché 24 consiglieri comunali, tutti, non dico su tutte le materie, ma ciascuno nei settori dove hanno particolare dimistichezza e competenza, debbono dare un contributo. Lo possono fare in aula, il contributo si può fare pure al di fuori dell'aula, nelle commissioni o altro. Però è auspicabile che ci sia un maggior coinvolgimento da parte di più consiglieri comunali. Il ruolo mio non voglio io, perché con Fabio noi ci vediamo due ore prima e ci mettiamo d'accordo che noi diciamo aspetta, Ignazio, se quello parla, vedi un attimo di intervenire. Le dinamiche non sono proprio queste. Sono dinamiche che si creano all'interno dell'aula. La nostra esperienza ci porta a fare determinati tipi di interventi. Però devo dire che un maggiore coinvolgimento da parte di tutti sarebbe... Non per niente, non per niente, se ci fai caso sono messi, sono posizionati l'uno di fronte all'altro. Mi fai aggiungere un'ulteriore cosa, spero che l'avvocato Bibona non me ne vorrà per quello che sto per dire, ma è una cosa che penso assolutamente. Il pasticcio di quello che si è venuto a creare, secondo me, culmina poi nel momento in cui c'è l'elezione a Presidente del Consiglio Comunale di Ignazio Messina. Con rispetto parlando e con grande ammirazione, io non avrei preso quella carica. Uno, perché c'era il ricorso che sapeva perfettamente di dover andare a fare e l'avrei visto meglio in Consiglio Comunale a fare il capo dell'opposizione eventualmente. E quindi si è creato questo clima dove comunque il ricorso che c'è, da un lato c'è chi rappresenta la maggioranza che siede alla Presidenza, che secondo me è un ruolo istituzionale di rappresentanza e che secondo me non andava assegnato a Ignazio Messina. Questa è la mia considerazione. Se Messina vinge il ricorso facciamo fare il Presidente a Fabio Termini. L'ha detto Fabio Termini. Se perde il ricorso dici ci scambiamo di ruolo. Esatto, c'è un ricorso ma il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale molto difficilmente è stato superparterse negli anni. Se si ribalta il risultato la composizione del Consiglio dovrebbe cambiare pure. Certo, a cominciare da me che sono fuori. Fabio Leonte non è più eletto. Cambierebbe di poco in realtà, però qualche consigliere. Lo coinvolgeremo in giunta, non ci sono problemi. Qualcosa è cambiato. Però siccome il Presidente viene votato dall'Aula, quindi io mi chiederei... A proposito di... Perché hanno scelto proprio Messina, perché secondo me questo... Ora glielo chiediamo, ora glielo chiediamo come conclusione. Però è stata anche alla fine una scelta che dà risultati, perché se ci fate caso, insomma, riesce ad avere un'azione politica spesso che anticipa quella del sindaco. Qualche caso ha scavalcato il sindaco. Ha scavalcato, ha giocato d'indice, ha giocato d'esperienza. A proposito di belle pagine, di clima armonioso, volemose bene, eccetera, eccetera. Arrivato a questo punto, ecco perché dico poi, fino a quando questo sistema regge. Però visto è considerato che si amministra grazie... Ora non so come chiamarla, maggioranza numerica. Maggioranza numerica. Così si chiamano, loro così si chiamano. Così. Noi ci definiamo maggioranza numerica. La maggioranza numerica. Non abbiamo altre possibilità. Arrivato a questo punto, siccome gli atti non passano senza il loro apporto, allora a questo punto io da sindaco librerei due posti in giunta. e offrerei alla maggioranza numerica la possibilità di fare una grossa coalizione. Ci vuole fare indicare la forza. Quella che non si è fatta. Quella che non si è fatta in maniera tale che così si toglie l'imbarazzo. Posso dire la mia su questa cosa? Non è più facile scegliere 5 e basta. Prego. È più facile scegliere 5. Ah certo. È più tocito che sceglierne 16. Io che ho sempre contestato all'idea delle opinioni per partito preso. Siccome faccio parte di questa coalizione, allora devo dire per forza no a qualunque cosa mi arrivi dall'altra parte, anche se magari sotto sotto dico, ma per la verità penso che sia una buona idea, però siccome sono dall'altra parte allora devo votare no. Io questa cosa in questo momento voglio definirla, Giovanna, sperimentale. Questa fase sperimentale a me non dispiace perché si vede alla fine, poi sono d'accordo con te, l'evoluzione non può essere, questa non può essere la normalità, ma in questa fase sperimentale in cui siamo abituati a dibattiti durissimi che sono stati di contrapposizione violentissima nel passato, Anche scadenti? Sarà perché, ovvero affogare, come si può dire, perché poi allora alla fine sono maggioranza numerica, allora dico che facciamo, possiamo metterci di traverso per tutto. Sarà anche vero che i punti che per ora stanno arrivando sono oggettivamente di interesse collettivo e quindi dire di no è difficile, ma a me questa fase in questo momento non dispiace. Ma non solo, tanta gente l'apprezza, questa è la cosa che a me dispiace, che non si comprenda questo aspetto. E' vero che non è normale, come dice Gioca. Ma non è normale, ma non è normale. Allora pensate a un Parlamento con una situazione di questo genere. Ma non è normale, ma non lavoriamoci al Parlamento, noi siamo qua. No, 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 non te lo farei, non sono d'accordo. 40.000 abitanti, non sono d'accordo. Allora fate la grande coalizione, così si toglie questo imbarato. Vabbè però, scusami, ci sono comuni, ma è vero che ci sono anche comuni, dove con il maggioritario... No, 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 non sbaglio, noi parliamo di un controllo che l'opposizione va a fare sui singoli altri. Ci sono comuni, soprattutto con il maggioritario, dove ci sono candidati che hanno dentro, estrema sinistra e estrema destra, non è che siamo alieni da questo punto di vista, lo sappiamo, a Montevago è successo questo, dove c'erano Fratelli d'Italia... Siccome succede questo, nei piccoli comuni succede, siccome noi siamo un grande comune... Alla fine non è che ci sia tanta differenza. Se noi torniamo nel passato, Mario Turturici ha amministrato con me che provenivo da una situazione completamente diversa e devo dire che quella non fu una pessima amministrazione, perché ci furono grandi risultati anche amministrativi. Io da questo punto di vista farei una distinzione tra la situazione parlamentare nazionale e quella comunale, perché è vero quello che dice Giovanna, che i ruoli dovrebbero essere contraddistinti, ma la legge dovrebbe contraddistinguerli. Oggi che ci troviamo in questa situazione va gestita la situazione odierna. Dobbiamo ricordarci, e torniamo al capitolo 1 della puntata di stasera, che noi siamo in attesa dell'esito del ricorso, perché la decisione di quel ricorso, qualunque esso sia, io ritengo non sarà indolore per nessuno. Sarà uno spartiacco. Quindi quello sarà uno spartiacco, come dice correttamente Filippo, importante, e lì poi bisogna capire quello che si vuole fare. È importante questo passaggio. Intanto ricordiamo che l'udienza del Tarre il 24 marzo sarà quella la data, quindi noi oggi ci siamo un po' divertiti, lo dico effettosamente. Ma non è detto che quella sia l'ultima udienza. Non è detto, esatto. Perché sulla base delle valutazioni fatte in prefettura sulle sette schede, non valutate in quella sede per mancanza di indicazione da parte del Tarre, il Tarre potrebbe rimandare gli atti in prefettura per la valutazione. E' vero che l'avvocato di Messina ha annunciato il ricorso per mangiare i giudizi. Esattamente, che è finalizzato proprio a questo aspetto. Qualunque cosa accadrà, le cose potrebbero cambiare. Mettiamo il caso che tutto rimane per com'è, probabilmente Termine potrebbe avere la maggioranza numerica anche in Consiglio Comunale, perché si parla di possibili trattative con qualcuno. E' vero questo, il pur parler con la democrazia cristiana. Io ritengo che da parte di Fabio Termine con la democrazia cristiana sarebbe veramente una metamorfosi assoluta nel giro di pochi anni. Io ritengo che quella decisione necessariamente aprirà in città un dibattito. Su questo dubbi non ce ne sono. E poi grande responsabilità sulle spalle se la troverà proprio il sindaco. Perché nel momento in cui si presenta un gruppo che vuole sostenerlo, può stare a lui anche a dover valutare le scelte future che debbono essere fatte. Io ritengo che il sindaco, che ci sarà in quel momento, se verrà confermato termine, se ci sarà Messina, ma se sarà confermato termine, io prendo che un ragionamento di apertura lui comunque la farà in qualche modo. Perché andare avanti con otto consiglieri comunali non è una cosa bellissima. che devo dire. Questo è un passaggio interessante. Chiedo a Leonte e poi chiudo con i colleghi. No, sono d'accordo. Cambierà qualcosa? Poi le cose cambiano, perché poi veramente si ritorna al vecchio sistema dello scontro fine a se stesso. Per cui delle valutazioni andranno fatte. Per ora sono premature, è inutile parlare di soggetti che possono entrare a parte. È inutile. Però delle modifiche ci saranno. Io sarò favorevole alle modifiche, perché se questa città va governata, va governata come si deve. D'altronde è vero che non c'è mai stata una compagine che finisce per come aveva cominciato. Ma vabbè, lo sono certo. Noi abbiamo cominciato già ridotti. E quindi, per fortuna non perdiamo pezzi, quindi almeno manteniamo. Allora, Giovanni. Io non penso che sia, lo chiamano, vecchio sistema dello scontro. In realtà lo scontro è un'esasperazione. Il confronto, il dibattito è una città che non dibatte. E che non si confronta. E che dove ognuno ha le proprie idee. Ma magari può anche per quel singolo atto votare, non per forza, per partito preso, ma semplicemente l'analisi, il controllo. Il Consiglio Comunale è un organo anche di controllo, non dimentichiamolo. E se invece queste due parti sono così vicine, tali da parlare, scusate la diffidenza, però io da cittadino faccio un ragionamento da cittadino. Giovanna, sono vicine, però ammetterai che se giocassero a poker terrebbero la pistola sotto il tavolo. Saranno vicine perché non hanno alternativa. Ma anche sul tavolo stesso non hanno alternativa. Sarà che io sono cresciuta guardando il Consiglio Comunale, vedendo dei consiglieri molto preparati. Voi dimenticate una battuta del Consigliere Leonte in Consiglio Comunale recentissima. Voi lo dimenticate. Quando dice, signori miei, se noi avessimo i numeri, noi ci voteremmo le cose senza bisogno di fare tutto questo. Quindi la situazione contestuale non può non essere presa in considerazione. Il contesto è questo. Io critico semplicemente il fatto che, secondo me, chi sta seduto lì ha questo ruolo di controllo, dovrebbe approfondire. Vedo solo poche persone, i consiglieri che stanno lì da tanto tempo, penso a Filippo Bellanca, penso a Carlo Gero Bono, insomma chi ha già esperienza. Vedo invece molto più passivo chi è entrato in Consiglio da poco. Ok, è entrato in Consiglio da poco. C'è anche qualche altro consigliere che è giovane, che però già ha magari un precedente. Dico semplicemente il controllo va fatto, studiamo gli atti, iniziamo a discutere, iniziamo a parlare. Perché sentire ad esempio l'altra volta un consigliere della minoranza numerica, insomma dire sull'approvazione di un debito fuori bilancio, insomma ha chiesto, ad un certo punto questo dibattito si è alzato in piedi chiedendo... La vera giustizialista, dai. Ecco, che cosa bisognava fare è stato veramente svilente, quindi io dico semplicemente che secondo me la situazione attuale è paradossale, non potrà andare a lungo per forza di cose, perché quando arriverà la decisione, insomma, finale, però in questo momento la situazione è questa, dico stiamo attenti. La storia del Consiglio comunale, recentissima, è fatta di evoluzione. Non voglio andare molto indietro, ma per esempio con Fabrizio De Paola, poi con la Valente, quindi il Consiglio comunale è stato fluido, calcisticamente, come si chiama? Fluidificante. Fluidificante, esatto. Una volta ormai. E quindi non vedo dubbio che la situazione cambia, finora sono stati approvati atti dovuti. La maggioranza numerica ha dalla sua parte, per esempio, la modifica o lo sconvolgimento del bilancio di previsione, lì può emendare e quindi cambiare la politica del sindaco. E adesso potrà votare anche contro il conto congiuntivo, se lo vorrà, perché a casa non c'è il Consiglio, è stato votato. Non ci va… No, no, per dire il motivo per cui si è sciolto il Consiglio della precedenza del Consiglio. Non ci va, il confronto è assolutamente necessario, io ricordo che ci sono stati, ma ambedue possono darne testimonianza, momenti esaltanti di Consiglio comunale precedente, dove gli interventi dei consiglieri erano di alto spessore e spiegavano anche con i fatti e con i contenuti. Le urla sono la forza di chi non ha elementi per argomentare, allora urla. Vi ringrazio moltissimo per aver partecipato a questo dibattito, spero che sia passato qualche messaggio significativo nei confronti di chi ci ha ascoltato. Appuntamento con Vespera e la prossima settimana.